Eliminazione delle iperpigmentazioni del volto con l'Electroporo Cosmesis e il Peeling Misto 0.5 Le iperpigmentazioni del volto si possono prevenire e schiarire con l'Electroporo Cosmesis ed eliminare in maniera permanente con il Peeling Misto 0.5 In questa paziente usiamo le due tecniche insieme perché coesistono iperpigmentazioni dermoepidermiche visibili ad occhio nudo e iperpigmentazioni poco evidenti che si evidenziano solo con la luce di Wood Queste tecniche della team di chirurgia sono peeling misti li abbiamo chiamati così perché hanno due fasi, una fisica e una chimica La fase fisica apre la strada attraverso l'epidermide a una sostanza chimica che applicata sulla cute integra non ha alcun effetto ma è efficace se l'epidermide è microforata o resa permeabile I peeling misti sono le tecniche di scelta nel trattamento delle iperpigmentazioni perché la sostanza chimica applicata, la risorcina, riduce il numero dei melanociti La riduzione delle cellule che producono melanina rende permanenti i risultati ottenuti Il peeling misto 0.5 utilizza un'altra specifica corrente pulsata del team e dei micropulse I dati di programmazione sono direct pull set 0.5 barra 24.5 centesimi di secondo coag 38 watt em15 di 1,5 mm di diametro Con l'elettro manipolo M15 l'operatore tocca la superficie delle macchie rendendo permeabile l'epidermide Prima di iniziare i trattamenti si prepara la soluzione satura di resorcina Una piccola quantità di polvere è versata in un contenitore è sciolta parzialmente con una piccola quantità di acqua Terminata la permeabilizzazione si applica la soluzione satura di resorcina sulle macchie La resorcina penetra attraverso l'epidermide permeabilizzata L'applicazione della soluzione è continuata per alcuni minuti fino alla formazione di un frost ben visibile Durante l'applicazione la soluzione di resorcina non deve asciugarsi Se si asciuga impedisce la successiva penetrazione della soluzione nelle aree rese permeabili dalla corrente timidichirurgica Successivamente si distribuisce la resorcina su tutte le altre aree del viso microforate con gli elettrodi rotanti L'applicazione dura alcuni minuti La resorcina è successivamente lavata L'estrema efficacia di queste tecniche deriva dal fatto che la resorcina riduce il numero dei melanociti La riduzione delle cellule che producono melanina rende i risultati ottenuti permanenti nel tempo L'electroporo cosmesis con la sua azione estesa rende uniforme il colorito cutaneo Il peeling misto 0.5 elimina le macchie dermoepidermiche senza residuare aree acromiche La cute dell'aria trattata diventa uguale a quella circostante Le tecniche presentate sono efficaci e sicure e rivoluzionano il trattamento delle iperpigmentazioni del volto Per accedere alla visione completa dei video scrivetevi gratuitamente al Medical Video Journal CRPub.org L'iscrizione è riservata ai medici e i dati personali sono protetti Grazie 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 Per viを Grazie a tutti